Allora, ti avvi tolto qui, questo, 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 questo è Renzi, questo, non ha segni familiari? No, 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 niente segni familiari, non hai. Allora, io ti avvi tolto qui, almeno per ora, ora con la causa sicuramente ce la dividiamo con la signora. Allora, più 86 più 486, più 81, più 83, più 80, qui digiamo, uoio di questo busto sono 864 euro, meno, diciamo, è l'assegno della piast fá, certo, 1634, una vista del tornato? 780 che te le ricorderò il mese prossimo perché ti dico purtroppo sono rimasto con il culo per terra di più e devo programmare che poi la disoccupazione prenderò dopo 40 giorni dalla presentazione sì sì va bene